No, c'è, l'ho aggiuntata la chiave, ho preso un altro impegno, va bene, va bene, ho capito. Ecco la chiave, ci vediamo al Teatro San Paolo dall'8 al 10 gennaio, però se potete, se volete, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, sempre promesseci, arrivederci. Ho sbagliato la strada, vado di qua.